amici dal web vi chiederete che in esso c'è fra big wave cittadieriano e una freccia quasi nessuna se non vi presento i miei amici oggi parliamo con degli arcieri qualificati blasonati oggi parliamo di tiro con l'arco allora appunto vi dicevo arcieri arcieri con blasone abbiamo una famiglia intera di gente che dell'arco ne ha fatto una ragione di vita parliamo con marianna mariana rogazzo là intanto benvenuta alle nostre telecamere parlaci di te mariana in brevi linee 39 anni e ho cominciato a tirare con l'arco sei anni fa ed è nata la passione pian piano e da questa passione appunto come dicevi tu ne ho fatto quasi una ragione di vita perché tendo ad allenarmi quando posso quasi tutti i giorni se mi è possibile e sono fortunata perché appunto condivido la mia passione con il mio compagno e anche con mia figlia. Senti questi questi sei anni ti hanno portato poi a dei grandi successi? Sì mi hanno portato a dei successi ci sono arrivata nel giro di due anni ho cominciato a tirare dopo due anni mi sono ritrovata per la prima volta ad indossare la maglia azzurra e ho fatto i miei primi campionati europei in sardegna poi sono passata nel 2012 mi sono qualificata di nuovo e sono entrata di nuovo in nazionale e ho fatto i secondi europei in croazia e poi l'anno scorso nel 2013 in sardegna ho fatto i miei primi mondiali e anche quest'anno sempre con la maglia della nazionale sarò in Estonia. E quindi quindi in pochissimo tempo hai raggiunto già traguardi importanti mi dicono che vinci spessissimo è vero? Sì 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 mi capita spesso di raggiungere l'obiettivo. L'ultima vittoria? L'ultima vittoria è stata due settimane fa circa campionessa italiana FIARC per il terzo anno di seguito con mia enorme soddisfazione. Che dire che dire ragazzi come dicevo oggi parlavamo di campioni e da campione a campione parliamo con Mimmo. Mimmo intanto benvenuto qui a Cittadieriano senti l'arco ti ha preso sei stato quello che ha trasmesso questo virus mi pare. Sì in effetti un giorno è nata questa curiosità di provare ho tentato di convincere Marianna che all'inizio resisteva e poi come spesso accade abbiamo iniziato insieme questo percorso è una cosa che comunque ci coinvolge tutti e tre perché adesso siamo in tre a tirare. Tra virgolette lo diciamo tra virgolette nel senso positivo hai creato un mostro perché è diventata bravissima. Ah è bravissima e bravissima di suo sicuramente quindi noi ognuno tentiamo di darci delle cose l'uno con l'altro. Questa è una cosa che facciamo continuamente uno scambio siamo allo specchio l'uno dell'altro. La cosa importante di questo sport del vostro sport è uno sport all'aria aperta molto tra virgolette green. Vuoi narrarcelo in poche in una sintesi? Diciamo la disciplina che noi preferiamo e che pratichiamo con costanza è quella del passeggiare nei boschi all'interno dei boschi sono fissati dei percorsi questi percorsi sono come dire fatti in tutta sicurezza ovviamente e prevedono il dover tirare a distanze sconosciute su animali di dimensione e colori naturali e quindi questo è un po' l'obiettivo ed è molto bello proprio perché ci permette almeno a tutti e tre noi di trascorrere giornate insieme con vivo piacere. Vogliamo ricordare che chiaramente quando si dice colpire gli animali si colpiscono solamente dell'esagomo perché noi tra l'altro amiamo gli animali. Assolutamente tutti e tre lungi da noi l'idea di poter essere dei cacciatori una cosa che nel rispetto di chi pratica la caccia non ci appartiene ripeto nel rispetto di chi la pratica ma non ci appartiene. Gli animali sono in poliuretano quindi è un tipo di gomma resistente. Voi tra l'altro vedrete dalle immagini è fantastico passeggiare nei boschi noi abbiamo passeggiato con l'amico Franz Fiorellini con voi abbiamo fatto una parte del circuito dove si scoccava contro l'esagomo e speriamo di non aver sbagliato. Chiaramente questo virus si è protratto da te alla tua compagna è arrivato anche a Flavia. Ciao Flavia, benvenuta alla nostra telecamera mi hanno detto che sei bravissima, da pochissimo hai cominciato e già sei brava, vero? Dicono così. Senti, tu usi l'arco da quanto tempo? Sei anni. Sei anni, quindi da bimba appena camminavi già ho cominciato con l'arco e ti ha portato grandi soddisfazioni mi pare. Dicci qualche tuo titolo o qualcosa. Sono arrivata campionessa italiana Under 20 nel 2013 a settembre. Quindi possiamo dire quanti anni hai? Possiamo chiederlo a te sei giovane? Sì. 12 anni, pensate. Quando ho vinto il campionato italiano ne avevo 11. Quindi amici miei siamo in mezzo ai campioni. La cosa bella poi tra tutto questo, poi parleremo un attimo della federazione, è velozissimo Mimmo, che i nostri amici sono venuti qui ad Ariano Urpino. Avete scelto Ariano Urpino. Perché Ariano Urpino Mimmo? Bella domanda. Beh, la scelta era di individuare un posto che fosse innanzitutto vivibile, nel senso che noi veniamo da Napoli e quindi è tutta un'altra realtà. Quindi cercavamo un posto vivibile, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista sociale. Nel senso che noi apprezziamo molto il modo di vivere degli arianesi e quindi della cultura della Vialinese e quindi cercavamo un posto dove poter vivere in tutta tranquillità. Siamo fortunati non solo per la città di Ariano, ma anche per i vicini che ci hanno accolti in un modo veramente amore. Avremo degli arcieri e avremo degli arcieri più ad Ariano Urpino, questa è una cosa importante. Poi questo messaggio per il nostro amico assessore la svilupperemo insieme perché io mi sono innamorato, caro assessore, dell'Arco e quindi si innamorerà anche lei dell'Arco. Detto questo, la federazione, parliamo della federazione. Allora, in Italia esistono due federazioni. La federazione italiana a tiro con l'Arco, la FITARCO che aderisce al CONI e quindi è inserita a pieno titolo nel CONI e della federazione per capirci delle Olimpiadi, dove i nostri arcieri a squadra e maschile hanno conquistato l'oro agli ultimi Olimpiadi. Poi esiste un'altra federazione che è la FIARC, la federazione italiana arcieri tiro di campagna e che comunque praticano soprattutto, se non esclusivamente, questo tipo di disciplina che abbiamo elencato prima, è quella del passeggiare nei boschi e tirare su sagome animali. Una curiosità, tu hai un arco meraviglioso fra le tue mani, che è un arco che ricorda gli archi storici. Che tipo di arco è? Questo è un longbow, è completamente in legno, non prevede la possibilità di avere accessori diversi se non questa finestra sulla quale si appoggia la freccia. C'è l'obbligo di avere delle frecce in legno con piumaggio naturale di uccelli. L'unica concessione è avere questa cocca, che è quel pezzettino di plastica dove si inserisce la corda, di averla in plastica e non intarsiata nel legno. Cosa che invece gli archi storici devono avere. Quindi questo è un arco già di suo bello, però torniamo alla nostra campionessa. Stiamo per andare in Estonia e ci porteremo a un risultato fantastico, sono sicuro e lo sento. Io me lo auguro come penso qualsiasi atleta, però per me la cosa fondamentale sarà quella di fare sempre unicamente il mio tiro. Sì, il mio tiro. Quella è la cosa importante, è quasi come se fosse una sorta di missione la tua. Sì, sì, per me stessa sì, perché andrò lì per fare quello che ho maturato in sei anni. Bene, poi se portiamo una medaglia io faccio sempre, perché non sarebbe mai. Se la portiamo assolutamente sì, sarà una soddisfazione da aggiungere alle altre. Ovviamente sarà una grande soddisfazione, una grandissima soddisfazione. Già partecipare non è cosa da poco direi, è chiaro che ce l'auguriamo. Noi ce l'auguriamo. Visto che avete questo appuntamento, fra pochi giorni tu partirai, partirete, diamoci un appuntamento dopo, comunque vada, siete d'accordo? Assolutamente sì. È il momento di vedere, di metterli alla prova i nostri amici arcieri, si dice così, e Mimmo ci spiegherà a pochi tratti cosa sta per fare la nostra amica Mariana. Mimmo, dimmi tutto. Allora, Mariana adesso si prepara al tiro e in pretrazione utilizza i muscoli dorsali e lascia andare l'arco perché per quanto si possa pensare, noi siamo abituati fin dalla nascita a stringere gli oggetti, invece per quanto riguarda l'arco, l'arco va lasciato andare, tant'è che indossa una dragon sulle dita che permette di poter evitare che l'arco cada. Se vediamo adesso l'arco quando parte, l'arco viene lasciato e quindi è una cosa ben diversa da quella che siamo abituati a fare dalla nascita, cioè quella di trattenere gli oggetti. Per fare questo bisogna avere i muscoli rilassati delle dita e del braccio. Mi sembra che l'obiettivo ci sia stato colpito, ho sentito lo scoccare, quindi non c'è stato verso di salvare la sagoma dell'animale. Da che distanza adesso sta scoccando Mariana? Allora, all'incirca il cervo rosso, detto anche Elk, in questo momento è sui 25 metri. Una caratteristica dell'arciere è quella di dover tirare in gara durante le competizioni a distanze sconosciute. Quindi una capacità dell'arciere è anche quella di saper valutare le distanze in modo da capire quale alzo dare all'arco. In tal senso facciamo degli allenamenti anche con dei telemetri passeggiando nei boschi senza arco, proprio per poterci allenare e abituare alle distanze diverse in base alle discese, le salite e campi imprevisti e imprevedibili nei boschi. La peculiarità poi, la cosa forse più bella, è il contatto e il rapporto che si è con la natura, con i boschi, penso che sia una delle cose più importanti e basilari proprio di questa specialità. Sì, questa disciplina ci ha abituati all'idea delle lunghe passeggiate nei boschi. Sono gare che vengono effettuate in percorsi fatti in tutta sicurezza e quindi gli organizzatori posizionano le sagome. L'idea di queste lunghe passeggiate è una cosa che ci ha sempre colpito favorevolmente. Tra l'altro si ha l'occasione di conoscere molte persone, stare in un ambiente sano, di fare incontri piacevoli con la flora e la fauna dei boschi, che è un'altra cosa che è molto interessante. Una cosa molto green e che in questo momento, grazie a Dio, va tanto in voga. Diciamo che questo circuito, questa passeggiata continua, quanto può essere lunga una passeggiata? C'è un fatto metrico, un chilometrico oppure...? Di norma si parla di diversi chilometri con significative salite e discese all'interno dei boschi. Le gare hanno una durata di diverse ore, all'incirca diciamo che una gara può iniziare intorno alle 9 e concludersi intorno alle 15, alle 16, a secondo del tracciato. Quindi una bella giornata ecologica e sportiva. Bene, continuiamo a vedere i nostri amici che scoccano dai loro archi le loro frecce. Continuiamo questa bella passeggiata insieme agli amici arcieri, questa passeggiata molto ecologica, Mimmo. Si cammina pure tanto, Mimmo. Sì, sì, è un vero piacere, anche perché è bello, è bello e a noi piace molto questa cosa del poter passeggiare. E poi l'idea di essere una famiglia, nel senso che ci agevola molto perché comprensibilmente se fosse solo uno dei tre a praticare questa disciplina ci sarebbe una difficoltà oggettiva per il fatto di dover, come dire, per chi va lasciare gli altri due a casa. Mentre invece... Invece in questo caso è condiviso da tutti quanti. Assolutamente, e quindi ci favorisce per gli allenamenti ma anche per le competizioni perché trascorriamo la domenica insieme possibilmente nella stessa pattuglia o squadra a secondo della gara che si fa, che si effettua. Per il momento ci lasciamo così ma ci diamo un appuntamento subito dopo l'Estonia, va bene? Va benissimo. Per il momento è tutto, ci vediamo presto, parleremo con i ragazzi se vogliono ritrovarci. Poi ci organizzeremo, Mimmo, è vero? Noi siamo pronti. Assolutamente, siamo pronti. Vi aspettiamo qui, tiro con l'arco. Grazie. Ciao.